Ciao, sono Lillo e frequento la scuola di Gabriele da qualche anno, mi trovo molto bene, sono felice di essere qui intorno a tante persone belle. Gabriele è veramente simpatico e mi piace stare in questa scuola. Un bacione a tutti, venite numerosi e fate come me, divertitevi e ballate e tenetevi in forma. Ciao!